Gentili telespettatori, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, il forum in difesa della sanità pubblica e di qualità dato mandato ai suoi legali per la Costituzione, in parte civile, nel procedimento penale relativo al decesso avvenuto lo scorso mese di luglio del cittadino di Larino, Michele Cesaride. Vediamo. Le associazioni e i comitati che aderiscono al forum morisano per la difesa della sanità pubblica di qualità hanno conferito il mandato ai propri legali di formalizzare la Costituzione del forum in aderenza con i propri fini contemplati nello statuto nel procedimento penale in corso a Larino in seguito al decesso del 47enne Michele Cesaride. Una presa di coscienza in direzione della richiesta di Costituzione di parte civile per una lotta che non trova un solo attimo di sosta, sempre e comunque per le finalità della tutela della salute dei molisani e della regolarità dei pronunciamenti costituzionali che sono di garanzia di tutti i cittadini e non solo di parte di essi. Il forum, inoltre sempre per il tramite dei suoi legali, ha fatto appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar del Molise che ha rigettato l'istanza cautelare e l'istruttoria nel ricorso RG 140 del 2018 proposto per l'annullamento del decreto del commissario ad acta sulle reti di emergenze e tempo dipendenti. L'appello è stato reso necessario proprio in relazione dei decessi che si sono verificati negli ultimi mesi, tutti riconducibili a pazienti colpiti da patologie tempo dipendenti per i quali non è stato possibile il ricovero presso le strutture regionali.